Ciao a tutti! Prendiamo una di queste tre tavolette di compensato, la più piccola in particolare, ha uno spessore di 3 mm, prima una bella lisciata con la carta vetrata fine e poi ho fatto il disegno di un personaggio, l'elfo domestico di Harry Potter. Utilizzerò questo pirografo con la temperatura regolabile e le punte a filo, è di ottima qualità e lo trovate sul nostro sito. Qui vediamo che prima di tutto ho fatto il contorno della figura e poi sono andata a sfumare alcune parti. In pochi minuti si può accontentare un bambino o un appassionato di personaggi di Harry Potter. Se siete interessati alla pirografia vi consiglio anche il mio libro La tecnica della pirografia per un uso pratico del pirografo, con tanti consigli e suggerimenti, soprattutto per chi ha le prime armi. Vi saluto, vi consiglio anche di consultare il nostro sito elettronicadidattica.com per pirografi e accessori per la pirografia. Ciao a tutti e a presto!